Ecco, durante l'eclissi, avere un bar è un po' come nel proibizionismo, può essere un buon ricovere per le proprie clandestinità. Questo bar è stato essenziale per superare, diciamo, due inverni. Ecco, naturalmente ci si ritrova con un sacco di fantasmi in un bar vuoto. Infatti questo libro è dedicato ai fantasmi. Con i fantasmi ci si beve insieme, si è tutti un po' come Jack Nicholson all'Overlook Hotel, no? Quel bellissimo bancone di Shining dove c'erano un sacco di fantasmi. Ecco, i miei fantasmi sono finiti così, come delle radiografie. Quando ero piccolo avevo sentito dire che se lasciavi un registratore acceso tutta la notte, se c'erano fantasmi li avresti trovati poi registrati. Ecco, queste sono le registrazioni dei miei fantasmi nel luogo dove si sono fatti sentire. Per esempio, può iniziare così questa eclissi. Il libro è diviso, strutturato, diciamo, sono 600 pagine, tanto materiale, tante parole, però diciamo che ha una struttura, una cornice che è segnata dai lampi che sono raffigurati insomma come corpi celesti da copricapi e maschere che segnano il tempo della vita, ma anche riferimento a un'opera, perché se non l'avesse già coniato Esiodo questo libro si poteva chiamare Le opere e i giorni, nel senso che fa riferimento allo scorrere del tempo, ma anche alle opere che uno affronta. Nel mio caso riguarda una decina di opere che si sono succedute dal 2005 al 2020 e il viaggio che si compie per arrivare a queste opere e anche il viaggio a cui porta l'opera dopo. Jacopo Leone l'ha strutturata graficamente con una serie di eclissi che è una pagina divisa in 12 spazi che sono neri e pian piano, fino ad arrivare alla dodicesima eclissica, vanno a costituire una pagina interamente nera. Ne ho parlato troppo. La poesia non va confusa con la profezia. Da un anno non facevo altro che cantare la peste, di peste in peste, da Tucidi, da Mangioni, da Arto a Boccaccio. Per rincarare ancora la dose ho iniziato l'anno registrando una nuova versione assieme a un giovane signorino che diceva di essere figlio di Satana. Più peste l'abbiamo intitolata. Tutto sentivo addosso, tutto avevo indagato, tutto introiettato. Il miasma, l'untore, il capro espiatorio, la danza macabra, il battesimo che era avvenuto a Lazzaretto e poi l'esecuzione pubblica a Clusone, Bergamo, oratorio dei disciplini, senza misericordia. L'avevo sentito arrivare già da un anno, da quando per l'ultima volta mi ero andato a rifugiare nelle grotte del paese vecchio. Si sentiva nell'aria, nella sublimazione schermata della vita, nella socializzazione per interposta tecnologia, nelle vampate di calore, nella pulsione alla bestialità. La denunzia, la denunzia, mi dicevo. Mi ero attrezzato. Il becco addirittura, le tuniche, gli stracci, le erbe per riempire il becco, i rimedi, la medicina. Giravo con la maschera già da un po'. È comoda la maschera della peste, ci si abitua subito. Sono andato anche nella città più medievale d'Europa, Tallin, a respirare l'aria. Anche lì medici dalle peste in costume, la danza macabra. Ho letto tutto, la peste scarlatta, la peste di Orano e poi l'amore in allegoria bestiaria per intrattenimento di corte. Così perché in tempi di peste è bene parlare di amore. In un certo modo sono arrivato puntuale all'appuntamento. A furia di evitare in ogni modo la dittatura dell'attualità, a furia di sviare e deviare per le laterali della storia, mi sono trovato all'uscita dell'ultimo vicolo, quello della cataratta medievale, a sbatterci contro di faccia alla peste con ancora il becco della maschera addosso. Ero attrezzato per una pestilenza della coscienza, ma dalla coscienza deve essere passata al corpo, all'atterraggio, i primi controlli e poi insomma tutto il resto. D'un tratto, una mattina è arrivata la paura della morte e dunque quando c'è questo tipo di paura è bene attrezzarsi come geppetto dentro la pancia della balena e farsi un bar, l'autarchia. Dunque è necessario munirsi di un vetrino quando si osserva un eclissi, perché osservare un eclissi significa guardare direttamente con gli occhi il sole. Il sole da sempre insomma è l'astro vitale, quindi è la nostra vita che brucia. Il vetrino può essere la scrittura, che è quello che ci consente di mettere a fuoco la vita senza bruciarci la retina. Dunque questo è il procedimento che sta dietro a questo libro che si chiama Eclissica, perché è ambientato e prende lo spunto da un eclissi, che non è un eclissi astronomica, ma un'allegoria di quello che è accaduto a partire dal marzo del 2020. Ecco, quindi la metafora dell'eclissi è quella che un po' racconta quello che è stata la nostra sospensione della normalità. In questa sospensione, nel buio, si guarda la nostra vita e si vedono dei lampi, dei lampi che sono i lampi di cui è composta la nostra vita. Quando tutto viene a mancare, anche il senso del futuro, ecco che si rivedono gli eventi e riaffiorano a noi, magari col vetrino della scrittura si fanno filtrare e rileggere, perché, come si dice, il destino come la balena si capisce soltanto dalla coda, cioè quando è passato, quando si è compiuta. Ora, questa eclissica prende il via da questa piazza vuota il 27 marzo del 2020 e comincia dalla piazza invece piena per i funerali di un altro papa, Giovanni Paolo II, nell'aprile del 2005. In mezzo a questi due eventi passano 15 anni di eventi, di vita, di percorsi di cui sono personalmente stato testimone. Dunque, questa è la mia personale eclissica. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace e per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile e vive i partigiani e festa d'aprile. Questo era Sergio Liberovici e Franco Antonicelli, festa d'aprile.